Progetto Eureka, una best practice regionale. Sì, diciamo che uno dei fiori all'occhiello della programmazione 2007-2013 è stato, ma lo sarà anche nella programmazione 14-20, infatti questa edizione che parte oggi, cioè si conclude una della vecchia programmazione, ma parte poi contestualmente anche l'edizione per la programmazione 14-20. L'attenzione verso ovviamente il mondo dei giovani e soprattutto verso la ricerca, la ricerca che è uno dei settori chiave per favorire lo sviluppo, la ripresa economica, lo sviluppo economico e quindi questo progetto mette insieme la cosiddetta tripla elica, cioè il mondo delle istituzioni, il mondo della ricerca dell'università e il mondo dell'impresa. Quindi un'altra buona pratica del Fondo Sociale Europeo? Sì, ovviamente le iniziative sono molte, stanno poi ripartendo appunto con l'avvio a pieno regime della programmazione 2014-2020 e questa in particolare ovviamente intende poi dare un supporto concreto non solo alle opportunità di impiego dei giovani laureati, ma anche un supporto alla crescita del tessuto produttivo regionale, appunto andando a formare dei ricercatori che poi in modo concreto andranno a operare prevalentemente nelle imprese. Grazie. Grazie.